Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di The Oran Red Come vedete oggi siamo di nuovo su questo bellissimo gioco E siamo al terzo episodio Ultima volta ci siamo dati dei piccoli obiettivi da raggiungere Ovvero A prendere le risorse alimentari qui visto che comunque siamo un po' a corto in questo momento E in più finire i campi E in più finire la mensa E distruggere i vari edifici Abbiamo tante cose da fare questa volta L'unica cosa che dobbiamo sperare è che riusciremo a sopravvivere queste ultime notti Anzi la prima, vabbè ultime no Spero, spero che non siano le ultime Però intanto abbiamo mandato queste persone a raccogliere le risorse qui Assolutamente un ristorante Quindi sicuramente troviamo un bel po' di cibo Speriamo tanto perché comunque abbiamo provviste per zero giorni Praticamente potremmo iniziare a morire di fame Qui c'è una zona da rovistare Ma... Ah ok, qui erano... Qui prima non c'era questa freccia Strano però va bene Non mi ricordavo di quella freccia Sono sincero Sono molto molto sincero Che poi sarà il nostro futuro ospedale Abbiamo detto Sì, mi pare sì Avevamo detto che lì faremo Appunto L'ambulatorio appena possibile Intanto per ora possiamo finalmente provare a cucinare praticamente Abbiamo sei pezzi di grano Non sappiamo a cosa sembrano Se sono semi effettivamente non lo so bene Intanto sembra che le cose vadano bene Stiamo facendo anche la ricerca Sul cibo Ah, ricerca completata Ok, l'abbiamo Tecnici di prefetturazione e conservazione del cibo Sprocca e sembra che prolunga la durata di conservazione degli alimenti Non so se adesso possibici Visto che abbiamo poco cibo Più che altro forse dovremmo iniziare a fare questo L'assistenza medica Secondo me sì, dovremmo iniziare a sviluppare questo Ok, ricerca in corso Perfetto Perfetto Possiamo togliere la pausa Che notte Ho paura di perdere truppe a random Qui stanno ancora cercando Non vedo tanto cibo per ora È un piccolo edificio Ok, non è grande Però speravo Un po' di più Un po' di più Magari mi sbaglio E poi saprei che ci sarà più roba Infatti per ora sta salendo Qui le ricerche continuano Hanno trovato un po' di risorse Ok, hanno finito E hanno trovato 13 cibo Munizioni Munizioni ne abbiamo tantissime Abbiamo poche armi in generale Stiamo facendo le nuove torrette Dovrebbero bastare le armi Per le due nuove torri Speriamo Fortunatamente non ho avvistato mostri fino adesso Zombie in questo caso Ok, hanno raccolto il giusto Hanno trovato tutto quello che ci serve Perfetto, perfetto Adesso abbiamo cibo Ancora per zero giorni Mamma mia Quanti ne siamo di popolazione? 45 Non ricordavo che mangiavano così tanto Torniamo a casa Ah, perché giusto No Giusto, il grano non viene contato a prescindere Abbiamo nuove scatolette E nuove scatolette Ogni giorno da quattro Viene consumata una nazione di cibo Per un giorno Cioè adesso Ok Mamma mia Abbiamo bisogno di un sacco di cibo Questo è un po' un problema Oh, io non vedo zombie Quindi Mandare le squadre A raccogliere altre risorse Dobbiamo muoverci con i campi Dobbiamo assolutamente muoverci Con la produzione I campi, tutto Dobbiamo essere un po' più rapidi Ah, c'è la luna piena Ah, ecco C'è la luna ancora piena Che fortuna ragazzi Quindi I zombie non ci sono Possiamo Possiamo approfittare appunto di Raccogliere le risorse E lo facciamo Diamo un po' la velocità Siamo stati fortunati Eh, molto fortunati Qui hanno trovato Un po' di risorse utili Altre munizioni E utensili di base Ma utensili di base Ne abbiamo pochi Allora, prima o poi Dobbiamo abbattere Qualche edificio Tipo questo Per abbatterlo Cosa ci dà Mì, quante risorse che danno Ok, quindi Abbattere gli edifici Ci danno la possibilità di Raccogliere più materiali possibili Non so quanto Se ci voglio più tempo Poi per Rispetto Vabbè A questo punto Sei qui Andate a raccogliere Risorse in quest'area Dobbiamo Un po' Correre in questo caso Dobbiamo correre ragazzi Vabbè sì Dai andate a piedi Lasciate l'auto a loro Abbiamo raccolto Tanto cibo Dobbiamo Raccogliere tanta roba Per ora Perché Finché non abbiamo I campi pronti E la cucina pronta Non so manco se Effettivamente le scorte Questo tipo di Cassa di cibo in scatola Possa essere utilizzata In cucina Ma non credo Tecnicamente Non credo Ok Voi andate qua Sproviamo tutte queste Piccole zone Può essere molto utile Ok ragazzi Potete forzare le auto Di fare Determinate strade Se vedete Ad esempio Io premendo alt Tasto destro Ho praticamente Cambiato il percorso Dell'auto Ho fatto uno più breve Praticamente Sul terreno Diventa più lento Ma tagli Molta più strada Quindi magari In alcune situazioni Ad esempio Questa Non conviene Far fare tutto il giro Tanto non ci sono Zombie né altro Ma Vedete Basta fare così Che è meglio L'auto arriva In quel punto Taglia un po' di strada Ci mette Cioè È un po' più lenta Ma Il tratto è più breve Consume anche meno benzina E amen Ok Noi di benzina Non è che ne abbiamo tanta Quindi non possiamo Permetterci Di perdere Di perdere risorse Ecco di perdere risorse Fondamentali In questo momento L'unica cosa che possiamo fare C'è benzina in quest'area Quindi dopo potremmo 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 andare a prendere la benzina Senza nessun problema Dopo andiamo a raccogliere la benzina Sì ci conviene Ci conviene assolutamente Raccogliere la benzina Edificio adattato Oh finalmente Ecco qua Vedete Ah ok Carne Più legna Grano Più legna Ci danno Dei determinati Pasti Questi pasti Come può essere prodotto In una cucina Le azioni sono meno durevoli Ma rendonoci stati più felici Del cibo in scatola Ah durano di meno Però Eh Amen Il cibo in scatola Non sarà infinito Signore sta arrivando l'inverno Le ragionate saranno più corte E le fattorie smetteranno Di produrre cibo Dobbiamo preparare Bene Abbiamo preparato i campi Inutilmente Praticamente Mamma mia Bellissimo Un momento giusto Per fare i campi Di raccolta E poi Vabbè Dai Cibo In scatola Ce ne servirà un bel po' Dobbiamo farne solo un po' di attenzione Oh abbiamo trovato benzina Perfetto Manco farlo apposto Abbiamo trovato un po' di benzina In quest'area Non male Non male Quindi un po' di benzina Ce l'abbiamo per ora Allora abbiamo un po' di risorse In generale Ce l'abbiamo Costituisci tre campi Manca l'ultimo campo Raccoglie metallo Per costruire un'antenna Sviluppa la tecnologia Di antenna base Effettivamente Dovevamo fare anche quella Prima Mi sono dimenticato Amen 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 Perché ha messo la macchina lì? Non lo sapremo mai Non lo sapremo mai Cercate intanto Con questo edificio qui Piccolino Tanto ci mettete poco Infatti Magari troviamo Cibo Troviamo qualcosa Una razione Oh Mica male Ma ci scherzate Ma non è per niente male Ora carichiamo la macchina Aiutiamo questi ragazzi qua A prendere la roba Un po' di benzina Un po' di cibo Eh siamo un po' A corto di robe Però Amen Cerchiamo di raccogliere Il più possibile Ok la macchina È piena Però non so se Cioè possono portare Ancora risorse Loro eh Quindi intanto Facciamo una cosa Cerchiamo qua dentro Se magari trovano qualcosa Anche una cosa stupida Benzina Che culo Che culo ragazzi Abbiamo trovato Altra benzina Ecco vedete Lo sapevo che Qualcosa Trovavamo Facciamo cercare Ok Vai Facciamo l'oro Mettiamo nella macchina Possiamo tornare Abbiamo un buon bottino Eh Non è per niente male Questo bottino Vai sì Facciamo fare la strada Così dai Tanto comunque Non è così lontano Che tutti ci sprechiamo Tantissimo a benzina Allora Situazione Sicuramente Non è per niente male Possiamo Dire Che siamo messi male Che Non abbiamo risorse Anzi Le abbiamo Allora Sono le 16 E non ci conviene Fare altri viaggi Tecnicamente Abbiamo un po' Cercato intorno Per ora Ci conviene Rimanere In base Ci conviene Rimanere in base Dovremo prima o poi Fare anche le mura Perché mi pare Che possiamo Permetterci Di fare Le mura Se infatti Possiamo fare Le mura In legno Possiamo fare Anche il cancello E che non so Se adesso Effettivamente Gli edifici Sono un po' Strani Cioè le posizioni Non sono Perfettamente Perché comunque Ci serve Questo fare L'ospedale Quindi qua Noi sappiamo Che quest'area Il muro Ce lo possiamo fare Però non so Se questo edificio Possa essere utile Per altro Possa permetterci Altro Questo comunque È una capacità Di alloggi 104 Quindi non è male Non è per niente male Vedremo Perché dobbiamo Valutare un po' Di cose So che Ci servono armi Perché se no Non possiamo fare Altre squadre Medicinali Un po' Ne abbiamo Abbiamo un po' Di risorse Benzina Ne abbiamo poca Ma Si può Trovare un modo Di Risolvere Questo problema Qui c'è Un grande Supermercato Ecco Io Cercherei Qualcosa Di alimenti Portare più alimenti Possibili Perché è quella Che ci manca Tanto adesso Comunque le risorse Stiamo prendendo Stiamo facendo Prendere legno Stiamo facendo Prendere un po' Tutto C'è di noi La luna piena Come faccio Come ho fatto Prima a vedere Oh Gesù mio Sembra che ci sia Di nuovo La luna piena A sto punto Approfittiamone Se c'è la luna piena Ragazzi Io manderei In esplorazione Le squadre A sto punto Non pensavo Fosse di nuovo Luna piena Siamo stati fortunati Ah qua si vede giusto No sta piovendo Cazzo 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 È messo a piovere Nel momento giusto La prendete conto C'era un buon tempo Ci ha fregato la pioggia Porca troia E niente Dobbiamo tornare a casa Oppure stava già piovendo Vi giuro Non me ne sono accorto Stava già piovendo Non è che i mostri Non sanno più dove siamo Abbiamo ucciso tutti quelli là Che erano nella zona Nelle ricerche Potrebbe essere Magari sto dicendo Una cazzata Solo che sta piovendo Giustamente Non possiamo fare nulla Sta arrivando Il grande freddo Vabbè Mettiamo la città Visto che non possiamo fare nulla Aumentiamo la velocità Un'orda sta arrivando Secondo me è quella Che noi Cazzo Cazzo Andiamo ragazzi Subito 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 Ok Sta andando abbastanza bene Dobbiamo riparare No 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 Aspetta Dobbiamo avere pazienza Pazienza Un attimo Di pazienza Un attimo Di pazienza Allora Un'altra Orda Sta arrivando Un po' di orde Speriamo che Non ne arrivino Altra Boh Comunque le difese Tengono Fortunatamente Le orde Sono piccole Spero che Non siano Più grosse Di queste Ma più che altro Non abbiamo Ci servono armi Più potenti Le pistole Prima o poi Saranno un po' inutili Credo almeno Un car ship è pronto Penso che siano Finite le cacce Dei mostri La caccia Dei mostri Dei nostri confronti Voilà È giorno Credo che possiamo Un po' Andare in giro E andare A questo Maledetto Supermercato In quella Sta un po' Piovendo Eh Però dice che Uscire sole Quindi Il meteo Sembra favorevole Nei nostri confronti Forse Chi lo sa Boh Intanto i nostri uomini Fanno il loro dovere Fanno ciò che devono fare E andiamo in questo Supermercato fondamentale Dobbiamo prendere anche La benzina Eh assolutamente La benzina pure Scarseggia Prima o poi Trasmissione Operatore Abbiamo trovato Una fattoria Abbandonata Ci sono delle galline Che girano Sembrano serbatiche Potremmo Uh Dove abbiamo trovato Queste galline Queste mi sembrano Un gruppo nemico Ok Basta non faccio vedere Così non rompere il cazzo Costruisci Produci carne Quindi possiamo adesso Produrre la carne Cimo Stalla Ah Sempre un edificio Da adattare Porca troia Eh ma non abbiamo Edifici così vicini Da dire Eh possiamo adattare Questo Questo è un po' Un problema Mi sa che ragazzi Dobbiamo adattare Questo Come edificio Ma Quel veicolo Quel veicolo Potrebbe essere Tanta roba Oh enorme Sto veicolo Andiamo a vedere Uh buono Allora E' piccolo Però Può usare 20 di carburante Questo non è male Eh dobbiamo portare Gli altri Operator On my way Come iniziamo La velocità ragazzi Abbiamo trovato Un altro veicolo Utilissimo Non utile Utilissimo Eh dobbiamo tornare a casa Ragazzi Madonna Sta cosa che non si Clicca E' il panico Mamma mia Ci sono un sacco Di orde qui Abbiamo trovato Un veicolo Enorme Ragazzi Mettiamo anche il mitra A sto punto Non è che Perché una difesa Non possiamo metterlo Però abbiamo un poco Carburante Questa c'è da dire Questo non è male Ragazzi Adesso vi veicolo Porca troia Non è male Enorme Penso che sia Bello corazzato Rispetto alla macchina Ha più vite Infatti Abbiamo trovato Cibo per tutti Perfetto Le orde sono state avvistate Ovviamente Ok Speriamo che non arrivino Comunque L'assistenza medica Mi dispiace Ragazzi Dobbiamo sacrificarla E rendere questo edificio Per animali A massimo L'ospedale Possiamo fare Questo qui Perché Non abbiamo Molte Non volevo Staccare troppo La nostra zona Perché io pensavo Che gli edifici Da adattare Erano solo questi Quindi uno dice Vabbè Adattiamo solo Ci sta però Effettivamente Una stalla Non è che Un edificio Che tu dici Ok Un edificio Però è un po' Strano come cosa Perché le difese Eccetera Posso costruire Ma una stalla No Io Personalmente Cambierei questa cosa La stalla La farei da Costruire Magari Oppure magari Puoi scegliere Se adattarlo O farla costruire L'edificio Secondo me Non ci starebbe Ci potrebbe stare Una cosa del genere Oh perfetto Adesso i zombie Ci hanno attaccato Ma Possiamo passare Un po' più velocemente La notte Non credo Che ci saranno Altre orde Speriamo Non guardiamo Dall'alto In caso Io direi Di preparare Però già una squadra A sto punto Per Recuperare Il cibo In quell'area Facciamo andare Un po' qua Ok Ma i zombie Si sono tipo Buggati Non mi sbaglio Va bene così Va bene così Cioè nel senso Può capitare Allora Quest'altra squadra Direi invece Di Prendere Quest'altro Veicolo E andare A prendere Sta benzina Ah Quindi si può Mettere Solo Un tipo Di arma Eh no Mettiamo Mettiamo le pistole Allora Noi facciamo Una cosa intelligente Andiamo a raccogliere Benzina qui Qui E qui Facciamo raccogliere La benzina All'oro I zombie Si sono nascosti Lì all'interno Signore Signore La gente Riferisce di aver sentito Un sacco di rumori Prenditi da sotto suolo Temono che possano essere Gli infetti che si muovono Attraverso le fogne E i tunnel Dobbiamo rafforzare Le nostre difese Ed essere pronti Per un attacco Anche all'interno Eh dobbiamo prepararci Dobbiamo quindi fare altre difese Ma scusami Se sono sotto suolo Anche se facciamo Le difese interne Non potrebbero attaccarci Dalle fogne Un po' strana questa cosa Ma Ma Vedremo Vedremo Comunque abbiamo Due giorni di cibo Non siamo così A corto di cibo Però È sempre poco Ragazzi Ci serve Modo di fare Più cibo possibile Sicuramente la carne Ci aiuterà Oh ci sono Due sopravvissute Magari possiamo diventare Possono essere I nostri amici Altri cittadini Da sfamare Oh mica si fermano No non Non ce l'hanno Di fermarsi Mi sento preso In giro Da questi abitanti Boh vabbè Vaffanculo dai Che qua abbiamo da fare Qui abbiamo da fare E raccogliere la benzina Allora Macchina piena Possiamo pure andare a casa Credo che forse automatico Vengono da noi E ci chiedono Se si possono unire al gruppo Perché se no Non lo spiego Letteralmente Io mi avvicinavo E incontrano una a correre Abbiamo poca benzina Ma Oddio Poca no adesso Abbiamo altre trettaniche Più quelle che abbiamo addosso Signore abbiamo Incontrato delle persone E certo che voglio Vai Ovvio accettiamo Ci serve una mano d'opera Un po' di mano d'opera In più Non fa mai male La mano d'opera È sempre ben accetta Allora Quando ho portato le risorse Abbiamo un po' di cibo Ma sempre poco È quello il discorso Qui io direi Di andare a piedi Dobbiamo consumare Meno benzina Perché non mi sembra Ricco di benzina Queste aree Cioè Oddio Oh c'è un'altra auto qui Oddio Un'altra auto Non sarebbe per niente male Per noi Anche perché Il camion Comunque è abbastanza lento Può tancare Eccetera Ma È molto lento Veramente molto lento Lasciamo raccogliere Prima di tutto La benzina All'oro Chiare sono Sono le 15 Quindi Tecnicamente Non possiamo andare A prendere il veicolo A questo punto Lo andiamo a prendere Appena si fa A mattino Difficile Seleziona Quell'edificio Così Però Ci siamo Riusciti Purtroppo Dobbiamo mandare Una squadra a piedi Quindi Non è facile Abbiamo 49 persone Adesso Quindi erano 4 Boh dai Non male Sono sempre 4 abitanti Puoi sempre Farci un'altra squadra Aggiuntiva Ecco qui Seleziona Produzione Cioè Praticamente Con Un grano Ci dà Due pezzi di carne E fertilizzante Ok Perché giustamente Gli animali Fanno La pop Come orda Vi sta Oh gesù mio Mamma mia Enorme Quell'orda Ragazzi Abbiamo bisogno Anche di voi Madonna Mi sono dimenticato Di riparare L'edificio Prima Veloce 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 Andate Andate qui Magari Andate qui Andate qui Un po' La velocità Facciamo Attenzione Risorse Esaurite Pistole Eh ho capito Non è che le posso Inventare le pistole Assolutamente Più che altro Un casino Perché c'è tanta roba Da prendere e fare Adesso abbiamo La stalla Credo che la miglior cosa È Non usare il grano Per produrre Il cibo Ma Di fare quello Con la carne E il grano Lo usiamo Per dare Da mangiare Gli animali Che producono carne È l'unica Cosa che mi viene In mente Che possiamo fare Perché non abbiamo Grandi produzioni Oddio Forse Dobbiamo fare Solo più campi Orda a vista Madonna mia Pensava che ci stava attaccando Meno male che non ci ha Ci ha ignorato totalmente Momentiamo la velocità Dai facciamo passare la notte Subito Un'altra orda Dove Ah ok Sempre Forse sempre la stessa Vedo che stanno diventando Sempre più grosse Secondo me è qua Un po' di puzza Eccoli Porca troia Oh Gesù mio Quanti ne sono E giorni Ah sono morti Vedi quelle nuove Non ho mai visto Un tempo Del genere Cielo è così buio No Non ci credo Non ci credo Non ci credo ragazzi Ce l'ha Pioggia forte Eh dobbiamo riparare Questa struttura Ragazzi Questo ha subito danni Cerchiamo di riparare Tutto dai Su 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 ragazzi Dobbiamo fare attenzione Ok Dai cazzo Per due legni Andiamo avanti e indietro Ho paura che ci attacquino Mentre stiamo riparando Quello sarebbe veramente Rognoso Però penso che finiamo in tempo Ok possiamo mettere Dove l'orda Adesso c'è il gelo Quindi immagino che adesso Coltivare tutto Sarà un po' complesso Passiamo quella squadra lì Forse potrebbe esserci utile Una quarta squadra Ma non abbiamo armi Dopo avremo Una squadra con i coltelli Non so quanto Possa essere Impattante Con l'arma bianca Un po' Difficile Il gioco ogni volta Che dice Horda bistata Mi spaventa Che potrebbe venire Comunque Ma non ci sono Allora Prima che ci attacca Io voglio capire Se ci sono edifici Che ci permettono Di raccogliere Che sono fatti per Oh madonna Quanto cibo qui Dobbiamo andare in quest'area Mi sa Ci sono solo libri Eh ma infatti Anche libri ci servono Quanti ne abbiamo Di libri Non te lo dice Dove che posso Vedere effettivamente Abbiamo bisogno Anche di libri Effettivamente Non è che ne abbiamo Così tanti Cioè ne avevamo Raccolti Ma non Ah basta vedere A quarte giornale Non ci ho pensato Effettivamente Ah le hanno portati Tutti qui Non mi dice Il numero Le hanno presi E basta Ok Quindi potrebbero essere finiti Eh la tecnologia È rimasta bloccata Qui c'è tanta roba Qui ci sono Cure mediche Ah ancora No abbiamo finito Di controllare Quell'edificio Vero Eh ma Non ci sono Armi Edifici Armerie Una cosa del genere Cazzo Siamo a scampia Non è possibile Non trovare armi Dai Come si fa Non trovare armi A scampia È ovvio Che le armi A scampia Ci sono I zombie Sono fermi Lì Comunque ragazzi Io direi Per adesso Di fermarci Qui Di fermarci Assolutamente Qui E Dobbiamo Portare avanti Un po' di cose Siamo un po' indietro Ci siamo un po' bloccati Con la tecnologia Eccetera C'è un'auto qui Quindi manderemo Allora Potremmo fare tre squadre Secondo me Dovremmo fare tre squadre Perché Ci servono Ci servono tre squadre Ci servono più raccolte Il cibo inizia a scarseggiare Eccetera Abbiamo tre auto Due Partiremo con due auto Quindi manderemo una squadra a piede Una con l'auto Le manderemo qui A raccogliere tutte le risorse Che abbiamo qua in quest'area Quindi cibo Vedo che ci sono un sacco di ristoranti Ci sono Tre edifici Che letteralmente Permettono una raccolta di intelligenza Perché abbiamo le scuole intorno Ma ce l'abbiamo anche qui Io purtroppo Mi sono concentrato Troppo in quest'area Ma non avevo notato Effettivamente Dovrei studiarmi un po' Il territorio Dovrei dare un'occhiata Per capire Dove sono la maggior parte Delle risorse fondamentali Riguardo alla spedizione Ah ok Lì ci sono tanti edifici E niente Non credo che ci siano Arme E invece ci sono Cazzo Eccole Struttura per servizi uniforme Questa è stazione di polizia Praticamente Ci sono armi Però sono Cavolo Lontanissimo Non lontano Lontanissimo da noi Dovremmo mandare Poi una squadra Allora intanto Evitiamo di mandare A suicidere le nostre squadre Assolutamente Fammi vedere qua Se troviamo Un edifici Di polizia Ma non credo Infatti no In quest'area Non ce ne sono Non ci sono edifici Anche se in realtà In quest'area C'è la stazione di polizia Dove abitavo io E quindi Tecnicamente dovrebbe essere Una stazione di polizia Ma Penso che le armi In generale Mette molto più lontani Dal punto dello spawn Ci sta E tantissimo Come cosa Però sappiamo dove sono Non è impossibile D'andarci È possibile Ma Dobbiamo organizzarci bene Intanto Raccogliamo le risorse Che ci sono qui Abbiamo tanti edifici Da ancora Ad esplorare Nella nostra Ce ne sono un casino Sono tanti edifici Per questo Non noi dovremmo fare Tre squadre adesso Secondo me Potrebbe essere fondamentale Perché comunque Le possiamo avere Sei Io direi di fare Tre squadre Ragazzi Assolutamente Bene Nel prossimo episodio ragazzi Vedremo sicuramente Le nostre spedizioni Partire per quest'area Magari andare anche Nella zona medica E preparare una squadra Che vada a recuperare Le armi Per tutti Ci servono armi Sia per le difese Che per le nostre truppe Quindi ragazzi Ci vediamo Nel prossimo episodio Grazie per essere State qui con me Lasciate un like Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale ragazzi Ho visto che L'80% delle persone Guardano i miei video 80% addirittura A volte 85% Che guardano i miei video Non sono iscritti al mio canale Iscrivetevi ragazzi Perché porterò sempre Questi mantenuti Quindi Se vi iscrivete Se siete tanti Vedete che le persone Si iscrivono Lasciate un piace So che la serie vi piacciono Le serie vi piacciono E io le porterò Costantemente Senza nessun problema Al prossimo episodio